Cari cittadini lombardi, io sono già al lavoro. Come Presidente intendo ricambiare la fiducia che mi avete rivolto in occasione delle elezioni. Oggi, ad un mese dalle elezioni, la Giunta si è riunita ed abbiamo assunto le prime due delibere. Alla termine di ogni riunione di Giunta daremo una comunicazione con un breve video di quelli che sono gli argomenti più importanti che abbiamo trattato durante le elezioni. Oggi è stato assunto un provvedimento legato al taglio del super ticket, un taglio che consentirà ai cittadini di pagare esattamente la metà di quello che era il costo precedente. Si tratta di un importo di 21 milioni che sono stati stanziati e che serviranno a ridurre la pressione a carico dei nostri concittadini. Abbiamo aumentato del 15% il numero delle famiglie che potranno beneficiare dei nidi gratis. Credo che sia una manovra che ha un valore sociale ma anche simbolico. In ultimo abbiamo preso atto purtroppo della morte di due lavoratori durante lo svolgimento della loro attività. La Regione già in passato ha fatto e sta facendo molto. Abbiamo cioè ampliato il numero dei controlli. Intenderemo aumentare ulteriormente i controlli nelle varie aziende perché si rispettino tutte le normative. Riteniamo che la sicurezza sul posto di lavoro sia qualcosa fondamentale e dal quale non possiamo prescindere. È iniziato il lavoro. A tutti quanti, ripeto quello che ho detto in campagna elettorale, al lavoro.